Oggi è un giorno storico per la Malindi delle attività, per la Malindi italiana e internazionale del servizio italiano, per la Malindi anche della storia italiana perché uno dei locali di riferimento, dei locali mitici che hanno più di 30 anni di vita e di attività, che hanno visto quindi le storie, l'evolversi della destinazione turistica e anche residenziale, ha riaperto. Dopo un periodo buio e dopo ovviamente l'aggravamento dato dalla pandemia, il Karen Blixen Bar & Restaurant finalmente riapre i battenti. Grazie, e ce ne sono, a una nuova gestione italiana coraggiosa perché in questo periodo ci vuole coraggio e passione per decidere di riaprire un'attività, è tornato tutto, direi meglio di prima, perché insomma ci sono stati comunque degli ammodernamenti, ci sono stati degli abbellimenti e il servizio è tornato come quello dei tempi d'oro del Karen Blixen. E quindi noi siamo qua con Malindi Kenya a festeggiare questo evento, a bere uno dei primi caffè. Devo dire che la risposta della gente e dei clienti è stata eccezionale, considerato anche i tempi e il poco turismo, era poca gente che c'è in giro, eccezionale, speriamo che questo possa ovviamente proseguire perché è importante per Malindi tornare ad avere uno dei suoi punti di riferimento e quindi auguri, auguri al Karen Blixen. Grazie.